L'atto di insediamento dei Benedettini nel territorio della Bassa Padovana, orientale, verso la laguna di Venezia, viene individuato in un documento del 1129, con il quale Giuditta Vedova San Bonifacio ed il marito Guido de Crescenzi vendettero all'abate Alberto del monastero di Santa Giustina di Padova i loro possedimenti esistenti a Conca d'Albero, Desman, Corezzola.